Un ritorno tanto atteso è finalmente diventato realtà dopo due anni di pandemia. Sport Days torna nella sua versione originale all'aria aperta con i tornei e le tante attività che permetteranno di scoprire le diverse realtà sportive presenti sul territorio irpino. Giunta alla ventunesima edizione, la manifestazione ideata e organizzata dal presidente del CONI Giuseppe Saviano si svolgerà in tre location Parco Manganelli, il centro Flipper e lo spazio antistante la piscina comunale di Mercogliano senza dimenticare il Campo CONI da sempre location del Meeting Internazionale di Atletica Leggera che si terrà il 15 giugno. Incominciamo con il Parco Manganelli Santo Spirito per andare poi al Campo CONI per la 35esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica Leggera poi faremo una giornata dedicata interamente a diversamente abili il giorno 20 davanti alla piscina di Mercogliano e il 21 chiuderemo con il grande pugilato dedicato appunto alle Fiamme Oro con il Comitato Regionale Campano della Fede Pugilistica e l'Accademia Pugilistica Cardamone. Come sempre al fianco di Sport Days ci sarà anche Expert, il direttore Francesco Rodia ricorda quanto è importante lo sport soprattutto dopo la pandemia. Eh sì, diciamo che l'attività sportiva è proprio come dire l'attività numero uno per riottenere o per creare e costruire un'attività psicofisica legata al vero benessere. Questa è proprio la migliore occasione per incontrare tutte le discipline presenti diciamo in provincia di Avellino e poi è opportuno scegliere quale può fare a caso proprio insomma. L'importante è rimettersi in gioco.